Perché siamo qui a Milano come Ramen Doge? Diciamo che è una prima tappa, una tappa di un percorso che con la nuova Stellantis il brand Ramen Doge sta percorrendo in Europa. Questo percorso è nato un anno fa con la creazione del brand e degli Stellantis dove al brand Ramen Doge è stato dato un'organizzazione di cui sono responsabile. Il motivo per cui siamo qui al Mimo è perché stiamo seguendo un percorso di evoluzione del brand di cui questa può considerarsi una prima tappa ufficiale ma che segue un preciso piano di sviluppo di due brand che sono due icone al mondo e due brand di enorme potenziale di dentro del gruppo Stellantis, anche in Europa. Abbiamo il RAM Limited che è un'icona, è un riferimento nel nostro brand perché in Europa è il modello più venduto, quindi diciamo che rappresenta più o meno il 50-60% del mix di vendita e quindi l'abbiamo portato perché rappresenta RAM in Europa seppure ci sono altri modelli come il TRX che è il più potente pick up al mondo che non è qui presente e questo è il motivo per cui abbiamo portato il Limited nella versione sport. Poi abbiamo invece la novità vera che è la JetBrake di Dodge, questa è una vera novità. È una vera novità, appena uscita arriva direttamente come uno dei primi esemplari in Europa e quindi è un nostro flagship, una delle più potenti macchine sul mercato e quindi la consideriamo un bel pacco scenico qui davanti alla piazza del Duomo. Grazie a tutti!